Al pronunciare la parola Andrangheta si è levato un frastuono di insulti, minacce, intimidazioni. Qualcuno ha fatto così per dire ti taglio la gola. Ora noi ci chiediamo come possa decidere di guidare una città chi che risulta fortemente penetrata dall'Andrangheta, una persona che non sa, non sente, ma non fa nemmeno lo sforzo obbligatorio di informarsi. L'intimidazione è stata più che con le parole, anche se ci sono state anche quelle, con il linguaggio non verbale, nel senso che si sono alzati tutti in piedi, alcuni hanno fatto anche gesti. Qualcuno ha fatto così per dire ti taglio la gola. Però qualcun'altra ha detto che bisognava cospargermi di benzina. Né il sindaco, né il presidente del consiglio, né la giunta, né i consiglieri di maggioranza si sono dissociati da quello che è successo. E questo è gravissimo. Non stavamo parlando di un attacco di tipo politico errante sulla sua gestione amministrativa. Quello che miravamo a fare era garantire che il logo non fosse messo a disposizione e l'istituzione non si mettesse a disposizione della legittimazione di un mondo, che è il mondo dell'Andrangheta. Ricordiamoci che poi l'obiettivo finale a volte può essere anche leggere direttamente una persona all'interno del consiglio comunale o anche più di una. Io percepivo queste due città, una nera e una ovviamente che viveva nelle regole, eccetera. E avevo anche scritto più volte che queste due città, il più delle volte, è come se non si incontrassero, come se vi viaggiassero su piani paralleli. Per cui quella che rispetta le regole è come se non percepisse che c'è anche l'altra. Però l'altra sera è come se si fosse fatto un salto di livello, no? Da una parte io sono stata scioccata e sorpresa quella sera, ma dall'altra parte è come se avessi visto finalmente alla luce qualcosa che io avevo sempre visto, ma al buio.